Sospiro di sollievo per Maignan e per Milano. Il portiere francese. Durante la partita di ieri sera. In Champions League e contro Newcastle. Ha riportato un risentimento per i muscoli flessori della coscia sinistra. Ma l'imaging di risonanza magnetica fatta questa mattina, escludendo le lesioni. L'evoluzione clinica. Verrà monitorata quotidianamente e quindi capirà quando il giocatore sarà disponibile per. L'allenatore Stefano Pioli. In ogni caso. Al momento. Maignan dovrebbe saltare almeno due partite. Entrambe di serie a quella contro Verona sabato 23 settembre alle 1500 e quello a Cagliari mercoledì. 27 contro Cagliari. L'infortunio si è verificato circa 80 minuti e Maignan ha chiesto il cambiamento con una palla. Lontana. È crollato a terra e con gesti eloquenti ha chiarito che non poteva chiarire continua. In medio sostituto. Con Sportiello che ha preso il posto di Maignan. Mike ha sentito un po' ha commentato alla fine della gara ma dice poco. Mi fido di lui.